Grazie Giovanni, posso dire che rifiuto il termine estrema destra per descrivere la mia collocazione. Ecco, abbiamo sentito adesso in apertura il ricordo e appello del Presidente di Medici Senza Frontiere che ci ha ricordato che oggi cade proprio l'anniversario della tragedia di Lampedusa. In questo contesto lei ha avuto modo di parlare proprio la settimana scorsa davanti al più alto consenso internazionale, all'Assemblea dell'ONU, e ha detto testuale noi rivendichiamo Mare Nostrum, Mare Nostrum che è stata l'azione, forse l'unica cosa concreta successa in Europa dopo la tragedia di Lampedusa. Ci ricordiamo, c'era un moto di sdegno, tutta l'Europa sembrava essersi svegliata in quel momento, però l'unico paese che si è mosso è stata l'Italia. Lei infatti dice rivendichiamo Mare Nostrum, però dall'altro canto sentiamo altri rappresentanti del governo, in primis il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che parla di un progressivo disimpegno in favore di Frontex Plus. Ora Frontex Plus non è la stessa cosa, non è una missione umanitaria, quindi volevo chiedere la posizione del governo in merito fra Mare Nostrum rivendicata e Frontex Plus che arriverà a novembre. Qual è, Presidente? Ma intanto vorrei ringraziare Internazionale per l'invito. Io ho imparato da Internazionale molte cose in questi anni. La prima cosa che ho imparato è il rispetto delle idee, anche quando non la pensano come me, il rispetto delle persone e credo che le tante persone che siano qui, siano qui non per farsi una frittatina o una crepe, ma per ragionare, discutere, approfondire. E voglio dire che a chi non ha altri argomenti che le uova, noi continuiamo a rispondere con un sorriso e con la voglia di andare avanti, nonostante i tentativi di tappare la bocca e di impedire iniziative così belle come quelle di Internazionale. Nasce da quest'idea, dall'idea del rispetto degli altri, Mare Nostrum. Lei giustamente ha ricordato l'Assemblea dell'ONU. Vi confesso che per uno come me che ha iniziato a far politica studiando e leggendo, per esempio, una figura come Doug Ammarskjold, che è stato segretario generale delle Nazioni Unite e che ha scritto un libro straordinario, un diario, che si chiama Tracce di Cammino, l'idea di parlare dall'ambone dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è strepitosamente ricca di suggestione e di fascino, ma anche di responsabilità. E allora io ho detto sì, porto la voce di 60 milioni di italiani, ma qui oggi io dico di fronte alle Nazioni Unite che porto la voce anche delle 80.000 donne e uomini che sono state salvate dalle operazioni, dalle donne e gli uomini della Marina Militare, dalle guardie di finanza, da tutte le persone che si sono impegnate a salvare vite umane nell'operazione Mare Nostrum. Io ho portato all'Assemblea delle Nazioni Unite la voce di 60 milioni di italiani e di 80.000 che potranno diventare musicisti, artisti, impiegati, operai, disoccupati, 80.000 persone però che sono vive grazie a questo impegno. Non trovo contraddizione tra Mare Nostrum e Frontex Plus. Oggi Frontex ha sede a Varsavia, è l'operazione dell'Unione Europea per gestire le questioni legate all'immigrazione o comunque alle frontiere e da un budget vado a memoria di circa 80-85 milioni di euro. un budget che è ridicolo in questo momento, è ridicolo per l'Italia, è ridicolo per la Spagna, per la Grecia ma anche per la Bulgaria o da altri luoghi di confine. Ecco che si pone il problema di intervenire in modo diverso, quindi non vedo contraddizione tra ciò che dice il governo quando dice andiamo su Frontex Plus e ciò che diciamo noi rivendicando i risultati di Mare Nostrum. Ma, e questo è il punto che vorrei lasciare agli atti, noi abbiamo un problema. Il problema è che non si va da nessuna parte se non si risolve la questione Libia. La questione Libia è una questione enorme. Abbiamo il coraggio di dire che nel momento in cui si è deciso di intervenire in quel modo in Libia, tre anni fa, due anni fa, quando è stato? Tre anni fa ormai. E poi non si è assicurato niente dopo, non si è data una prospettiva di pace, di libertà e di sviluppo a quella terra. Il 97% delle donne, gli uomini, dei disperati che arrivano in Italia, vengono dalla Libia, non sono tutti libici. Magari sono donne e uomini che vengono dal Sudan, che vengono da zone di guerra, che sono rifugiati, ma partono dalla Libia perché la Libia è totalmente fuori controllo. Allora, ben venga Frontex Plus, ben venga un maggiore impegno, ben venga il ruolo dell'organizzazione delle Nazioni Unite, con Bernardino Leon, il commissario, il speciale inviato del segretario Ban Ki-moon, e la possibilità di fare dei luoghi di accoglienza in Libia o in Egitto e in Tunisia, i due paesi si sono detti disponibili, ma finché noi non interveniamo in Libia, cercando di riportare pace, libertà e democrazia in quel paese, non andiamo da nessuna parte. Volevo insistere, Mare Nostrum continua o verrà abbandonata? Mare Nostrum non sarà mai abbandonato finché non ci sarà un impegno dell'Unione Europea uguale e possibilmente superiore a quello che ha fatto l'Italia. Quando noi un anno fa ci siamo trovati, vi ricordate quei terribili reportage che hanno segnato le nostre facce, i nostri volti con le lacrime, quando vedi i sub che scendono e vedono una donna che ha partorito e poi ha perso il figlio, perché dopo sei ore, sette ore, dieci ore, ve lo ricordate quel momento? Allora che senso ha continuare a raccontarsi emozioni, problemi, impressioni negative e poi non fare niente per questo? Io trovo che Mare Nostrum andrà avanti finché l'Europa non sarà in condizioni di intervenire di più e meglio di come abbiamo fatto noi fino ad oggi. Per continuare Anche perché l'Europa ci racconta tutto di come si fanno i pesciolini, puoi pescare il pesce, l'Europa del Mediterraneo si occupa per dirci il pesce lo puoi pescare in questo modo a dieci miglia dalla costa, c'è un certo tipo di tecnica? Oh ma l'Europa non è nata per raccontarci come si va a pescare e pensare che il Mediterraneo sia interessante soltanto per i pesci. Il Mediterraneo lo vogliamo far diventare un cimitero o è il luogo, quello che la Pira chiamava il grande lago di Tiberiade in cui si costruisce la pace? Ecco perché io dico l'Europa non può continuare a girarsi dall'altra parte. Per continuare con il discorso della immigrazione parliamo adesso dei diritti di cittadinanza di quelli immigrati che sono arrivati in Italia, di quelli che sono nati in Italia e anche dei diritti civili, delle copie gay, matrimonio gay. Cameron, al quale lei ha visto recentemente, diceva che perché lei è conservatore, proprio perché è conservatore, crede nella famiglia e supporta le copie gay. Lei che cosa pensa di questi due argomenti? Il tema dei diritti civili è in agenda di questo Parlamento ed è in agenda di questo Parlamento secondo una precisa scansione temporale. Andiamo con legge elettorale e riforme costituzionali, io spero il prima possibile. Ragionevolmente la riforma costituzionale entrerà in discussione alla Camera a metà novembre, secondo giro dopo la prima lettura del Senato e più o meno contemporaneamente, spero un po' prima, il Senato voterà la legge elettorale. Questo perché i primi diritti civili sono ovviamente i diritti costituzionali ed elettorali. Subito dopo, il tema della civil partnership alla tedesca, su cui c'è un impegno esplicito del PD dopo le primarie, dopo una discussione molto tosta, molto seria, lei ricorderà che fu oggetto sia delle primarie del 2012 che di quelle del 2013. Alcuni candidati, penso a Pippo Civati, sostenevano con più forza direttamente l'equiparazione matrimoniale, altri tra cui il sottoscritto proponevano come modello la civil partnership alla tedesca e su questo tema tutto il PD oggi è impegnato, sapendo che noi non possiamo permetterci di rifare una campagna elettorale riraccontando le posizioni senza aver portato a casa il risultato. Subito dopo, il passaggio successivo è quello sullo use solely, mi pare che questa fosse la domanda. Su questo occorrerà anche sul tema della civil partnership, ma sulla civil partnership sono molto ottimista e determinato, anche su questa sono ottimista e determinato, però sarà cronologicamente subito dopo. La mediazione che abbiamo trovato sullo use solely, sostanzialmente cosa vuol dire? Use solely è all'americana, chi nasce in America è americano, punto. La discussione che abbiamo, il punto di caduta che abbiamo trovato è tra chi diceva use solely anche in Italia, chi nasce in Italia è italiano, il punto di caduta che abbiamo trovato è il cosiddetto use solely temperato, cioè diritto di cittadinanza non arriva a 18 anni, arriva prima, a condizione però non che tu sia nato in Italia, che sarebbe lo use solely puro, ma che tu abbia frequentato un ciclo scolastico. Questa cosa qui per me è molto burocratica da dire, avendo fatto il sindaco è molto chiara, io l'ho raccontato, poi mi hanno dato dell'arterio sclerotico, mi hanno detto che lo raccontavo sempre, perché stavo un po' eccedendo nel racconto, ma la cosa che a me è colpito in particolar modo in una visita, poi è successo in altre volte, trovare due bambine, bambine ancora, due ragazze di 12 o 13 anni, una si chiamava Maria, una Fatima, nemmeno a farla apposta, cioè i nomi simbolo, e Maria e Fatima stessa età, stessi gusti, stessa vita, stessa compagnia di giro, non so se anche stesso fidanzato, spero di no per loro, comunque la stessa vita di tutti i giorni, e Maria che dice perché io che sono nata nello stesso ospedale suo a distanza di due mesi, io sono cittadina italiana e lei no. Per me questo è stato l'emblema, erano in seconda media, erano l'emblema più forte del fatto che su sta cosa qua i diritti devono essere uguali forzatamente e credo che sia un fatto di dignità, e credo anche che su questi temi ormai la grande maggioranza degli italiani sia convinta, cioè non vedo le difficoltà che c'erano fino a qualche anno fa e che mi sembravano molto legate a un atteggiamento, direi, di paura, e questo, e chiudo, è forse il punto centrale. Noi abbiamo consentito di affrontare il tema dell'immigrazione ispirati dalla paura. Vorrei che andassimo a rivedere uno straordinario libro di Gian Antonio Stella, che prima di fare il fustigatore, giustamente, della casta, scrisse un libro, direi 2003-2004, L'Orda, quando gli albanesi eravamo noi, e racconta una storia straordinariamente bella degli italiani a inizio secolo scorso in America. Smettiamo di giocare sulla paura. La politica che gioca sulla paura vince forse nell'immediato. Io credo alla politica che scommette sulla speranza, e anche sul tema dell'immigrazione, dei diritti, anche della Costituzione e della legge elettorale. Se vorrete ne parleremo. Credo sia arrivato il momento di smettere di dire all'Italia che il futuro è sempre soltanto un terrore, una minaccia, una paura. Penso che sia arrivato il momento di raccontare una storia bella, credibile, e di farne protagonista le persone. Gli fate un applauso, lui si è preso l'uovo sul calzino. A me non mi hanno beccato, però gli fate un applauso. Torno a Londra con l'uovo alla coca e il calzino alla coca. A Londra abbiamo le uova a colazione, qui le uova in pomeriggio. Presidente, volevo tornare sui temi europei, ma orientarmi sui temi economici. Ieri lei ha avuto una presa di posizione molto netta sulla richiesta francese di andare al 4,4% in termini di rapporto deficit-pill, però allo stesso tempo ha detto noi in Italia rispettiamo il 3% perché in Italia abbiamo un problema di credibilità da risolvere e vogliamo tenere la barra dritta. A mio giudizio anche in Francia c'è un problema di credibilità perché per anni i francesi hanno ormai rimandato i loro obiettivi europei. Però i francesi hanno preso una strada diversa, hanno deciso che per combattere il PIL in stagnazione, per combattere la disoccupazione, non è questo il momento di stringere troppo la scinghia. La mia domanda è perché lei prende una strada diversa e le volevo chiedere se non c'è il rischio che per salvare la credibilità del medico in qualche maniera lei poi finisce per uccidere il paziente, ovvero il paese. Non so se l'applauso è alla battuta o al fatto che tutti voi fate il tifo perché anche noi superiamo il 3%. Chi c'è qui dentro che è nato dopo il 92? Sulle mani? Se qualcuno fa il furbo, eh. Però, bah, direi che pubblico di internazionale, quanto è un terzo, ora De Mauro magari ci dà anche i dati precisi, però un terzo di voi alza la mano e nel 92 non c'era. E non c'erano un sacco di cose nel 92. Non c'era internet, non c'erano molti dei paesi che oggi fanno parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite perché dicevano che finiva la storia e invece è esplosa la geografia. Non c'erano molte delle cose con cui quotidianamente facciamo i conti. I telefonini erano appena arrivati, però non erano dei telefonini, erano delle bestie che facevano venire l'ernia soltanto a portarle. Il 92 era un altro mondo. Un altro mondo. I parametri di Maastricht, il 3%, risalgono a quel mondo là. Quindi sostenere che il 3% è un parametro profondamente non attuale, sentite come sono diventato diplomatico, potevo dirla molto peggio, è un dato di fatto. Lui lavora all'Economist, che gaffa, scusami. Lui lavora al Financial Times, è che ieri ho visto sia l'Economist che il Financial Times. Ma come? Al Financial Times, nella Bibbia dell'economia, e io sono convinto che se potessi intervistare io i giornalisti del Financial Times, anche loro mi direbbero che il 3% non è più un parametro credibile. E allora perché l'Italia si impegna a mantenere questo vincolo, questo parametro? Perché io penso che il nostro paese sia da tanti anni vittima di se stessa e del proprio racconto. L'Italia è un paese in cui per primi noi non siamo capaci di raccontarci bene. È come se qui ci fosse qualcuno che ha un'azienda e il direttore commerciale dell'azienda parlasse male dell'azienda. È come se voi aveste davanti alla bottega al negozio uno che dice oh non entrate perché qui abbiamo dei prezzi. È impressionante come noi stessi non riusciamo a raccontare tutti gli aspetti positivi che abbiamo. Io ci sto provando e non è che sono genericamente un ottimista sto cercando di raccontare un percorso possibile una trama credibile che consente agli italiani di tornare a crederci e agli investitori internazionali di tornare a scommettere sul nostro paese in un momento di grande difficoltà dell'economia. Per far questo la prima cosa che tutti mi dicono fuori è ma voi intanto i politici girano e cambiano ma i problemi rimangono gli stessi. Due voi non mantenete la parola data e sta cosa è importante nel nei rapporti non so chi sta applaudendo no no vabbè riuscire a mantenere la parola data e a dire guardate la nostra credibilità sta nel fatto che noi le cose che abbiamo promesso le facciamo è importante allora noi abbiamo scelto con Piercarlo Paduan di avere un atteggiamento di serietà abbiamo parlato di reputazione abbiamo detto noi in questa battaglia qui vi dimostriamo che l'Italia ce la fa anche con il 3% perché l'Italia ha la seconda manifattura d'Europa ha una straordinaria forza della propria classe imprenditoriale dei grandi ingegneri che vi lavorano ha tutto per poter tornare a crescere deve recuperare fiducia l'Italia è il paese in Europa che ha il maggior risparmio privato se noi facessimo il conto del risparmio privato e del debito pubblico saremmo i numeri uno nonostante un debito pubblico ieri qualcuno lo definiva una montagna di debito pubblico ecco che gli spazi per poter finalmente cambiare l'Italia ci sono ma noi dobbiamo partire innanzitutto dal mantenere noi la parola che abbiamo dato siccome il 3% non siamo riusciti a cambiarlo noi il 3% lo rispettiamo e perché allora ieri hai detto quelle cose della Francia per un motivo molto semplice perché se la Francia in questo momento decide per motivi interni non di violare il 3% perché da un po' che lo viola perché anche questa cosa poi andrebbe raccontata che di paesi che stanno sotto il 3% ce ne sono pochini in Europa se la Francia decide di violare il 3% e di andare al 4,4% io ho detto ma scusami preferisco avere una Francia che oggi viola il 3% ma che prova a evitare l'austerità e gioca comunque un sacco di carte perché taglierà mi pare di capire 50 miliardi di euro in 3 anni e gioca la carta della ripresa nel modo con il quale Valls e Hollande stanno cercando di indicare preferisco avere Valls e Hollande oggi che rischiare col 4,4% che rischiare domani di avere Marine Le Pen perché la recessione e la crisi in Francia portano a crollare il consenso di quello che si chiamerebbe da noi arco costituzionale però posso dire una cosa questo ragionamento non si applica in toto all'Italia no 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 perché uova a parte alle ultime elezioni a quelli che contestano e fanno demagogia e scommettono sul fallimento dell'Italia e non sanno proporre un primo segnale noi gliel'abbiamo dato non è andata come in Francia se il PD ha preso il 41% non lo ha preso per me lo ha preso perché l'Italia ha voglia di tornare a crederci ha voglia di dire basta con quelli che scommettono sul fallimento che pontificano da tutti i punti di vista da tutte le tribune perché l'Italia non ce la faccia e l'Italia è in condizioni profondamente diverse dalla Francia qual è l'unica cosa su cui noi abbiamo gli stessi numeri della Francia? il debito pubblico perché tutti noi facciamo il conto tra debito pubblico e PIL ma il debito pubblico assoluto della Francia è esattamente uguale a quello nostro 2 trilioni chiaro noi abbiamo situazioni di difficoltà ulteriori e diverse abbiamo una situazione politica meno preoccupante ma abbiamo una situazione economica dove noi abbiamo un dato di crescita che è stato terribile posso dirlo? meno 2,4 nel 2012 meno 2,4 è il PIL poi per chi legge internazionale le pagine di Bob Kennedy sul PIL rimangono un must assoluto una bellissima poesia da ritagliarsi e da attaccare al muro però finché non ne troviamo uno migliore abbiamo il PIL bene meno 2,4% nel 2012 meno 1,9% a dicembre dello scorso anno ora siamo a meno 0,2 sarà molto difficile riuscire a invertire entro dicembre questo segno davanti però abbiamo arrestato la caduta tuttavia sono dati devastanti ed è chiaro che essendo gli indicatori economici correlati al prodotto interno lordo so che vi sto già addormentando indicatori economici prodotto interno lordo come diceva Berigno prodotto interno lordo sembra una cosa brutta schifo il prodotto interno lordo però è purtroppo l'unico indicatore che oggi noi abbiamo abbiamo delle diversità però e questo è il punto noi abbiamo scelto 3% lo manteniamo continuiamo a tagliare le tasse perché chi di voi ha una piccola azienda e ha l'IRAP quest'anno paga il 10% in meno che non è granché ma è un primo passo continuiamo a investire su chi guadagna meno di 1500 euro perché tutti hanno preso in giro gli 80 euro quello che ho sentito tantissime persone dire gli 80 euro non servono forse a te che guadagni 5000 euro al mese ma chi fa il metalmeccanico e prende 1100 euro al mese 80 euro schifo non fanno e sono un segnale di inversione di tendenza ecco su queste cose l'Italia fa un gioco diverso rispetto alla Francia il fatto che facciamo un gioco diverso non ci impedisce di dire una cosa semplice e cioè che se la Francia vuol fare meno 4 e 4 l'Europa non può diventare un luogo in cui c'è un maestro che spiega e tutti gli altri che imparano lo dico ma qualcuno qui a questo tavolo a questo palco lo sa meglio ma quando nel 2003 l'Italia che aveva allora presidente Berlusconi e ministro Tremonti riceve nella sua veste di presidente dei turno dell'Unione Europea la richiesta di violare il 3% da parte della Germania voi direte il mondo alla rovescia ma andò così nel 2003 la Germania decise di fare un grande investimento sulle riforme chiese di violare il 3% nessuno disse ai tedeschi dovete fare i compiti a casa ecco io chiedo lo stesso rispetto per quando questa cosa qui la chiede la Francia dicendo che l'Italia fa comunque un'altra cosa ecco quindi possiamo voi dell'estrema destra tedesca siete d'accordo possiamo quindi prevedere scintille la prossima settimana a Milano al vertice europeo perché poi non c'è solo questo 3% c'è pure il pareggio strutturale del bilancio che è molto peggio del 3% magari torniamo su quel punto dopo perché un altro tema che sicuramente sta molto a cuore a molti che ci seguono è la riforma del mercato del lavoro che non è solo articolo 18 di quello parleremo pur penso estesamente però volevo iniziare dal primo punto gli ammortizzatori voi avete annunciato un nuovo sistema un sistema che sarebbe una rivoluzione copertinicana ad ascoltare le linee guida cioè un sistema universale di ammortizzatori indipendentemente da che tipo di contratto uno aveva prima dovrebbe trovarsi protetto fra 12 e 24 mesi se ho letto bene però a me è nato un forte dubbio leggendo poi le cifre cioè come finanziamento aggiuntivo parlate di un miliardo e mezzo essendo tedesco conoscendo il sistema tedesco che è un sistema a protezione universale io mi chiedo non è un po' pochino per garantire davvero una decente protezione contro la disoccupazione un miliardo e mezzo aggiuntivo un miliardo e mezzo aggiuntivo no non è un po' pochino fosse un miliardo e mezzo sarebbe niente un miliardo e mezzo aggiuntivo non è un problema cerchiamo però di parlare in modo più chiaro perché altrimenti corro il rischio di non spiegarmi bene mi scuso come funziona oggi ti licenziano speriamo di no bene ti hanno licenziato nel momento in cui ti licenziano tu non hai spazio oggi per ripartire tu che cosa fai non è che vai e hai qualcuno che ti viene a cercare devi andare a iscriverti alle liste di disoccupazione quando una persona fa il sindaco e vede c'è qui tiziano negli occhi quello che perde il posto di lavoro capite che non c'è discussione che tenga tu ti rendi conto del dolore della fatica e ti rendi anche conto che oggi in Italia il sistema non funziona cosa proponiamo noi proponiamo di rovesciare il meccanismo non di dire ti hanno licenziato bene svegliati vai al centro per l'impiego in alcuni casi il centro per l'impiego della provincia funziona in altri no dipende se trovi quello bravo o quello non bravo poi c'è i corsi di formazione talvolta sono fatti ad hoc talvolta sono soltanto dei vergognosi strumenti per tutelare i soliti noti che si fanno i loro incontri voi lo sappiamo come funziona non applaudite perché non è bello applaudire bisogna cambiare le cose prima potevo limitarmi a raccontarle ora le devo cambiare dell'obiettivo per il quale sto lavorando bene il meccanismo è rovesciare questa impostazione ma parlare di queste cose è un dovere lo capite che quando io chiedo ai sindacati non di far polemica ma di parlare di queste cose qui anziché stare a discutere di un totem ideologico del passato non sto cercando di far polemica non sto cercando di dire come ha detto qualcuno ah ecco arriva la Thatcher sto cercando di raccontare come il mondo è profondamente diverso rispetto a prima oggi tra l'altro che senso ha continuare a dividersi per cui chi sta sotto i 15 dipendenti ha un certo tipo di tutela chi sopra un altro allora il meccanismo è molto semplice uno portiamo le aziende a creare lavoro perché è inutile stare a fare discorsi con queste regole qui del mondo del lavoro la disoccupazione è percentualmente quasi raddoppiata siamo al 12,3 eravamo al 7 6 anni fa ce ne rendiamo conto che se non si portano aziende a creare investimenti a fare interventi in Italia non si va da nessuna parte siamo d'accordo su questo o no? nel momento in cui portiamo le aziende come si fa a convincere un'azienda straniera a venire in Italia? questi se la fanno addosso per tanti motivi primo punto hanno paura della giustizia sono 20 anni che in Italia si discute della giustizia per i problemi che conosciamo io ho detto possiamo discutere di giustizia civile del fatto che ci vogliono tre anni per avere un processo quando in Francia Germania Inghilterra e Regno e Stati Uniti ci vuole un anno primo tema la giustizia certezza dei tempi vai in causa hai un anno di tempo secondo punto le realtà internazionali questi signori ce lo possono confermare sono terrorizzate dal tema della corruzione mi permettete di dire qui nella sede di Internazionale che c'è una cosa che questo governo ha fatto per me tra le tante che è quella di far finalmente partire l'autorità anticorruzione credo che sia stato qui con voi oggi alle tre e mezzo Raffaele Cantone abbiamo portato tutti i partiti a votare a favore della nomina di Raffaele Cantone oggi l'autorità nazionale anticorruzione che per anni è stata vagheggiata auspicata promessa è una realtà terzo punto la pubblica amministrazione dando dei tempi certi le tasse e poi ne parleremo se volete se vorrete e poi c'è il tema fondamentale di dire ma se tu decidi di intervenire sul mercato del lavoro come funziona in Italia la preoccupazione è quella per un imprenditore straniero di non sapere mai che fine fa ecco perché la semplificazione delle norme e la certezza dell'indennizzo fissato per legge senza dar lavoro ai giudici o agli avvocati è un principio di rivoluzione copernicana che sta in tutti i paesi peraltro è che il PD ha approvato poi per cambiare il lavoro ci vogliono gli ammortizzatori sociali un miliardo e mezzo già sarebbe un passo in avanti anche i governi di sinistra degli anni 90 in Italia quando parlavano di ammortizzatori dicevano senza oneri aggiuntivi per lo Stato noi invece ci abbiamo messo un miliardo e mezzo ci mettiamo con questa stabilità due posso dire una cosa che non va di moda o noi possiamo lamentarci quanto vogliamo però se c'è una cosa di cui sono fiero è che quando si parla di cose concrete bisogna avere il coraggio di dire la verità è inutile stare a lamentarsi della Germania se noi non copiamo il modello per esempio tedesco sul rapporto tra scuola e lavoro qui quelli che fanno polemiche ideologiche contro io ci discuto con la Merkel come è noto ma posso dire che il modello tedesco di rapporto tra scuola e lavoro è un modello che funziona e che è una cosa da copiare puoi anche litigare discutere quanto ti pare ma quando c'è una cosa che funziona meglio io voglio copiare e cercare di farla ancora meglio degli altri terzo punto ma perché dobbiamo avere dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B perché la maternità deve essere a seconda di che tipo di lavoro fai per cui se fai il dipendente pubblico in un modo se invece sei un professionista è un altro perché il commerciante che non sa più come andare avanti deve trovarsi la porta chiusa e invece chi magari è a tutela i sindacali ha tutti i diritti di questo mondo cerchiamo di venire incontro a tutti cambiando il sistema delle tutele mi dicono dire queste cose qui significa dire che questo è di destra secondo me di destra è conservare le cose come stanno io credo che sia sinistra quella che cambia e che investe sui diritti di chi in questi anni è stato dimenticato e chiudo io martedì prossimo incontro i sindacati vedo facce soddisfatte tutti ben ti sta sembrano dire no mi hanno detto tu non li vuoi incontrare incontro i sindacati mi hanno detto pronti ad essere sfidati bene legge sulla rappresentanza sindacale contratti decentrati sul territorio disponibilità al salario minimo disponibilità totale a discutere di tutto mi permettete di dire che forse anche i sindacati italiani devono cambiare non soltanto la classe politica aver cambiato aver cambiato il senato serve a questo ma dare l'idea che ci sia il 54% degli iscritti ai sindacati siano soltanto pensionati è un fatto positivo io sono contento per i pensionati però mi spieghi perché un ragazzo di 35 anni non avverte il bisogno di andare in sindacato perché lo vive lontano il sindacato forse perché anche il sindacato fatemelo dire in questo caso dal segretario del PD cioè da sinistra non è pensabile che il sindacato in questi anni non abbia avuto colpe va bene dar sempre la colpa a qualcun altro ma c'è anche una responsabilità di non aver capito che la società sta cambiando e se i sindacalisti o le persone iscritte al sindacato al nord-est per anni hanno votato Lega forse qualche domanda dobbiamo iniziare a farcela anche noi perché in questo modo non si tutelano i più deboli e le persone che hanno più bisogno Presidente il discorso che fa sicuramente sembra soddisfare il pubblico però c'è un problema ancora di agibilità politica in qualche maniera lei questa settimana ha vinto un voto importante nella direzione del suo partito anche se ha fatto delle concessioni sull'applicazione dell'articolo 18 però una vittoria importante però c'è una parte abbastanza consistente del suo partito che è pronta a darle forte battaglia in Parlamento dove soprattutto al Senato lei ha una maggioranza molto risicata c'è è possibile che su questa legge lei dovrà in qualche maniera utilizzare i voti dell'opposizione per riuscire a portare a casa la riforma del lavoro a quel punto che succede cambia il governo cambia la formazione del governo si dà finalmente si forma finalmente un governo di grande coalizione in Italia come forse di fatto ancora non gli è bastato quello di prima è quello che sta facendo su tanti voti in Parlamento già ora quindi non è una parolaccia dire governo di grande coalizione attenzione mi scusi se la interrompo è una cosa molto diversa il governo dalle regole io credo e mi prendo tutti i fischi le uova sono finite i fischi a disposizione mi prendo tutti i fischi nel dire qui davanti a un pubblico che tendenzialmente immagino più legato a una visione anche di sinistra io mi prendo tutti i fischi nel dire che è giusto fare gli accordi sulla legge elettorale e sulla riforma delle regole del gioco insieme all'opposizione e se quei grillini che se ne sono andati o che hanno fatto altro avessero il coraggio anziché di stare a fischiare di confrontarsi sulle regole io parlerei anche con loro come ho provato a fare anche persino in streaming perché perché le regole in un paese civile si devono scrivere insieme non puoi fare la regola della riforma elettorale senza confrontarti con l'altra parte è l'ABC questo è l'ABC poi io faccio le regole esattamente per non fare mai più governi di larga intese perché abbiamo messo un meccanismo che è il meccanismo molto semplice dei comuni il ballottaggio cioè che succede con questo meccanismo un vincitore ci sarà sempre e questo consente io dico finalmente di non avere quell'immagine terribile che tutte le volte c'è alla fine delle elezioni che non sai mai chi ha vinto che si apre la discussione e arriva un meraviglioso dibattito culturale dice chi ha vinto hanno vinto sempre tutti in Italia non c'è uno che dice io ho perso scusate no hanno vinto tutti allora riforma elettorale il meccanismo è molto semplice si va al primo turno c'è una soglia se uno la sorpassa ha vinto al premio di maggioranza e governa e se non è capace è colpa sua ma non ha più alibi sotto quella soglia si va al ballottaggio un attimo stiamo sul punto allora la mia domanda era sul mercato del lavoro no no un attimo no mi faccia ripetere la domanda perché sta parlando di legge elettorale lei ha detto una cosa diversa la mia domanda è se la riforma del mercato del lavoro quindi non le regole costituzionale di cui stiamo parlando passa con i voti dell'opposizione questo è un discorso diverso da quello che sta facendo ora io le rispondo a quel punto c'è bisogno di un cambiamento sostanziale nella maggioranza di governo la risposta è no e arrivo a darle la risposta però lei allora siccome è forte dell'esperienza giornalistica britannica deve riconoscere che lei ha fatto una domanda leggermente diversa ha detto lei già sta governando con il centro-destra in tanti voti e allora io su questo punto ho il dovere di ribadire con grande chiarezza e lo faccio fino allo sfinimento che la riforma elettorale e la riforma della costituzione per me si fanno insieme se però non è interessato né alla riforma elettorale la riforma costituzionale torno a bomba sul mercato del lavoro e le dico che non accadrà ciò che lei ha immaginato e che comunque anche laddove accadesse ma non accadrà questo non porterebbe a un nuovo governo di larghe intese le ho risposto nel merito puntuale mi dispiace tanto perché mi ero preparato una notizia sulla legge elettorale e la verrà la prossima volta prego Io le volevo chiedere un po' per continuare con questo argomento lei che ha fatto della trasparenza nella comunicazione dell'uso delle rete sociale uno dei grandi distintivi del suo governo c'è un argomento nel quale c'è qualcosa un po' di nascosto di secreto ancora le sue riunioni con Berlusconi non c'è mai stata una fotografia non sappiamo che cosa sia il patto il cosiddetto patto del Nazareno che cosa si parla in questa riunione se si danno del tu se danno del lei io vorrei chiederle quando è che si fa un selfie con Berlusconi e lo invia via Twitter so che lei adesso ci rimane male ma Berlusconi il selfie non è il mio tipo se però lei è interessata la prossima volta volentieri il punto però qual è? c'è una culta il patto risponde alla domanda in modo anglosassone patto del Nazareno significa legge elettorale e riforma senato e titolo quinto con abolizione del CNEL punto è segretissimo è stato tradotto in un atto parlamentare ma noi abbiamo letto che c'è qualcosa di più che cosa le posso dire? io lo so che cosa è il patto del Nazareno io c'ero potremmo chiedere a Berlusconi se la prossima volta viene in streaming io per carità di Dio non ho problemi ma la cultura della quale larga parte della sinistra italiana non solo italiana mi pare totalmente ispirata è la cultura del sospetto si vedono chissà che cosa c'è sotto uno dice guardate sotto c'è che vogliamo fare la riforma della legge elettorale no ma questo non ci interessa vabbè non ne parlo vogliamo fare la riforma del senato no questo non ci interessa vogliamo fare la riforma di titolo quinto no questo non ci interessa c'è sotto la giustizia eh no la giustizia c'è un progetto di riforma presentato in parlamento su cui Forza Italia ha detto che vota contro ma noi non ci crediamo e che ti posso fare cioè se non ci credi essendo questi non discorsi astratti ma atti parlamentari che ci posso fare probabilmente sotto c'è la RAI ora io posso parlare della RAI se vuoi vado a piacere siccome il patto del Nazareno c'è legge elettorale e riforma costituzionale ma sono due argomenti di cui non si può parlare io potrei andare su un argomento a piacere che vedo letto sui giornali la RAI nel patto del Nazareno c'è la RAI la prima cosa che abbiamo fatto con la RAI è vendere RAI che era stata una intuizione dei governi di centro-sinistra e che era stata bloccata dalla Gasparri però questo non rileva due la scelta dei palinsesti RAI io credo di essere l'unico segretario del partito di maggioranza relativa virgola nonché presidente del consiglio virgola a non aver mai parlato con il direttore generale della RAI perché non perché non mi interessi ma perché il direttore generale della RAI ha ricevuto dal suo azionista un mandato triennale io lo rispetto c'è una commissione parlamentare che deve vigilare guidata peraltro come da norma parlamentare da un esponente della minoranza e io rispetto e non metto bocca come faccio a negare una cosa che non esiste perché lei mi può venire qui e dire ha visto quel fantasma no eppure c'è e guardi non c'è non l'ho visto me lo descriva quella del patto con Nazareno è esattamente questa l'hai visto il fantasma no non c'è sì c'è descrivilo non lo so fare perdonatemi ma non lo so fare c'è un passaggio però importante quando la sinistra fa la sinistra e fa il PD non cerca di correre dietro ai fantasmi ma vince le elezioni con il 40% e prova a risolvere i problemi del paese quando la sinistra insegue i fantasmi di una certa cultura mi verrebbe voglia di dire radical chic questa sinistra è condannata a perdere le elezioni allora io ho grande rispetto per tutti gli editoriali che leggo perché li leggo tutti faccio finta di non leggerli ma li leggo tutti e merode perché vorrei discutere di scuola io credo che ci sia stata in questi anni una catastrofe educativa nelle scuole una catastrofe educativa però devo parlare del patto del Nazareno e non posso parlare dell'efficienza energetica classe a più delle scuole perché se parlo della classe energetica a più nelle scuole italiane non mi fila nessuno se dico invece che ho da parlare del patto del Nazareno anche la grande stampa internazionale subito drizza le antenne vorrei dire che io continuerò a parlare come abbiamo fatto prima visitando la scuola dell'Aquilone e già che ci sono visto che era piacere perché la domanda sul patto del Nazareno è piacere fatemi fare i complimenti al comune di Ferrara e alla legione Emilia Romagna perché lunedì 13 ottobre i bambini della scuola dell'Aquilone questo non c'entrano i grillini ecco almeno questo non c'entrano i grillini torneranno nelle scuole e saranno in una scuola veramente bella ecco lei parlava prima di una cultura del sospetto le posso dire che non è solo un problema della sinistra italiana ma forse un po' dell'opinione pubblica europea fuori dell'Italia perché abbiamo pur sempre questo fattore unico il fattore B noi da corrispondenti abbiamo il gravoso problema di spiegare a lettori spagnoli tedeschi inglesi come mai una persona condannata in via definitiva cacciata dal Senato ai servizi sociali scriva insieme ad altri la costituzione italiana e rimane un problema per noi veramente diventa difficile spiegarlo all'estero e vorrei un attimo tornare io non ho so aspetti mi fa rispondere su questo no io voglio prende prende scusate possiamo applaudire quanto vi pare finché prende milioni di vostri concittadini che gli danno il voto e che scelgono lui come proprio rappresentante ci sarà sempre il rispetto di una cosa difficile che si chiama democrazia poi lui non è più in Senato lui non ha più diritto a stare in Senato perché il nostro ordinamento l'ordinamento italiano che io difendo e che di fronte a giornalisti stranieri piaccia o non piaccia il mio ordinamento e il mio paese e io difendo a testa alta questo ordinamento ha previsto che lui non sia più nel Senato della Repubblica non sia più parlamentare ma finché Forza Italia ha i voti di milioni di italiani io rispetterò i milioni di italiani che non la pensano come me ma che rappresentano una parte importante di questo paese sa qual è la differenza che io vivo e sido nel merito Berlusconi quando si va alle elezioni vado contro di lui ma quando si tratta di scrivere le regole del gioco l'idea di avere un nemico che va sempre agitato prima dell'uso perché almeno abbiamo un nemico e siamo tutti più contenti è un'idea di sinistra che non mi appartiene io non sono qui per parlare male di Berlusconi sono qui per parlare bene dell'Italia e per restituire un'Italia più credibile di quella di chi parlando male di Berlusconi gli ha consentito vent'anni di governo perché per vent'anni l'avete mandato al governo con questo ragionamento continuando a vivere Berlusconi come uno spauracchio per vent'anni ha governato lui e se questa volta si è preso il 40% è perché abbiamo parlato dell'Italia e non di Berlusconi e mi dispiace per i corrispondenti stranieri io parlo con gli italiani cerco di affrontare i problemi degli italiani e se voi non sapete come fare a raccontare Berlusconi è un problema del quale sono a su vi capisco vi capisco no no li capisco perché vogliamo essere chiari ma io non sono qui per cercare di continuare dopo vent'anni la battaglia contro il nemico c'è un paese da rimettere in piedi c'è una speranza da far nascere ma tenetevi voi i vostri racconti su Berlusconi io da parlare dell'Italia e degli italiani è questo il punto ma noi lo raccontiamo da cronisti e mi creda pur a me quando chiamo la redazione dico c'è da parlare di Berlusconi per questo e quel motivo anche loro mi dicono siamo stufi non ne possiamo più si figuri noi però ancora c'è siete in ritardo di qualche anno ma io ma vabbè ancora è sulla scena e partecipa al discorso pubblico sulle riforme e poi per declinarlo nel concreto la domanda che si pone che pongono anche personaggi come Don Luigi Ciotti che è stato pochi giorni fa alla stampa estera a Roma la domanda è non condiziona anche nel senso di spazi di manovra questa maggioranza cioè Ciotti ci diceva noi vorremmo meno leggi ma più legge in Italia però alcune leggi le vorrebbero urgentemente un po' se ne è parlato poi non se ne è parlato più di tanto la legge anticorruzione la legge sull'autoriciclaggio che abbiamo una versione adesso un po' più blanda e poi la terza legge sarebbe quella sul falso in bilancio Don Ciotti ci diceva l'Italia se vuole ripartire ha bisogno anche di queste riforme lei stesso diceva prima infatti la legalità la corruzione è un discorso molto importante per chi vorrebbe investire in Italia io ho un'opinione diversa dalla sua quando lei dice c'è una legge antiriciclaggio più blanda le segnalo che non c'è una legge antiriciclaggio e la stiamo mettendo noi per dirglielo il problema è che in Italia di leggi ce ne sono fin troppe il problema non è che tipo di leggi facciamo soltanto ma finalmente farle applicare perché il problema della corruzione non è che ogni volta che c'è un fenomeno di corruzione uno dice sai che c'è ci faccio una leggina nuova inizia a rispettare le leggi che già ci sono questo atteggiamento di combattere la corruzione attraverso nuovi provvedimenti di leggi facciamo la legge sempre diverse e non attraverso l'unica cosa che va fatta cioè garantire ai giudici di fare i giudici garantire all'autorità anticorruzione di fare l'autorità anticorruzione e garantire che io rispetto il fatto che tu sia innocente fino a sentenza definitiva poi quando ti becco che hai rubato hai rubato non è che faccio grandi discorsi e dopo 20 anni tornano sempre le stesse persone allora da questo punto di vista la legge sull'antiriciclaggio sulla prescrizione sul falso in bilancio va avanti sta nel pacchetto giustizia insieme a cose sulle quali sono stato un po' contestato a sinistra per esempio la responsabilità civile dei magistrati io credo sia un fatto doveroso se io sbaglio la corte dei conti mi chiede denari indietro se un medico sbaglia se un ingegnere sbaglia le misure giuste anche per un magistrato questo se diciamo che 45 giorni di sospensione feriale dal primo agosto al 15 settembre sono un po' tantini per i tribunali non stiamo mettendo in discussione la libertà e l'indipendenza della magistratura stiamo cercando di dire che in un paese in cui le regole del gioco devono valere per tutti i primi a dare buon esempio devono essere i servitori della cosa pubblica allora io metto a verbale il mio punto di dissenso rispetto a lei circa ciò che davvero è priorità per l'Italia quando lei dice per noi il problema è Berlusconi io dico vi capisco capisco le vostre riunioni di redazione sono anni che si va avanti così io credo che la storia sia una storia sulla quale ciascuno di noi avrà le proprie idee magari molti potranno condividere il suo racconto della storia altri no so che a me quello che interessa è capire che in questi vent'anni in questi trent'anni l'Italia ha perso delle occasioni oggi non possiamo più permettercelo oggi io posso perdere le prossime elezioni ma non possiamo perdere l'opportunità di cambiare sul serio bisogna cambiare la giustizia certo che bisogna cambiare la giustizia ma l'idea che oggi il nostro problema sia che il governo di cui faccio parte e che ha messo all'attenzione del Parlamento autoriciclaggio prescrizione e falso in bilancio stia bloccando la ripartenza dell'Italia è un'idea che non trovo convincente e chiudo sapete quanti sono i processi fermi in Italia pendenti civili non penali 5 milioni e 217 mila ora intanto perché noi siamo un po' polemici in Italia si va dal giudice iniziamo a dire che laddove non si può andare dal giudice evitiamo abbiamo iniziato a mettere delle regole per evitare il ricorso al contenzioso laddove è possibile poi che cosa abbiamo fatto abbiamo preso il magistrato che più di ogni altro in Italia ha dimostrato capacità organizzativa magari tra un'intervista e l'altra Berlusconi anche una Mario Barbuto che è stato questo magistrato presidente del tribunale di Torino anzi della corte d'appello che ha sistemato nella sua città le pendenze giudizie non è che è una cittadina di serie B Torino l'abbiamo chiamato a dirigere l'organizzazione del ministero abbiamo fatto ricorso al processo civile telematico e stiamo tentando di ridurre il contenzioso di ridurre più che il contenzioso l'arretrato in questo caso queste sono le cose da fare in Italia poi certo c'è bisogno che quando qualcuno lo becchi a rubare non lo spedisca sui giornali per una settimana e poi si scopre che magari non aveva fatto niente ma tu abbia il coraggio di dire io ti riconosco innocente fino a che non c'è una sentenza definitiva passata in giudicato poi la volta buona in cui ti becco definitivamente per corruzione tu con la cosa pubblica hai chiuso ti faccio il daspo per sempre tu condannato per corruzione non rimetti piede questo è quello che serve non le discussioni mi perdoni sulle modalità dell'autoriciclaggio che sono oggi ridotte rispetto alle aspettative perché vogliamo evitare che un pizzaiolo che fa una cosa che non deve fare debba pagare per quattro reati diversi e sia associato a un criminale o a un mafioso quindi benvengano le norme sull'autoriciclaggio abbiamo trovato un punto di sintesi interessante però per far smettere di rubare prima ancora che le leggi occorre che la gente smetta di rubare e che quando viene beccata a rubare vada definitivamente a casa tutti sappiamo lei lo ha è stato molto chiaro anche questo pomeriggio che cosa pensa dei grillini ma mi chiedevo se lei forse avesse adesso 20 anni non trovasse lavoro fosse laureato se avrei dovuto andare a Londra a lavorare come camariera se forse lei pensa che potrebbe votare Beppe Grillo penso che se votassi Beppe Grillo comunque non tirerei le uova questo sì penso che se votassi Beppe Grillo non direi come ha detto Alessandro Di Battista quello che ha detto quest'estate a proposito dell'Isis penso che se anche votassi Beppe Grillo e tanti miei amici lo hanno fatto è sulla rete ti ho beccato è sulla rete si trova sulla rete penso però anche lasciatemelo dire che sia del tutto comprensibile e legittimo che ci sia chi vota da Fratelli d'Italia alla Meloni fino a Beppe Grillo però non so che idea si è fatta lei di quello che penso io di 5 Stelle glielo dico io trovo un sacco di amministratori per bene in 5 Stelle e quando fanno i sindaci sono costretti a fare i conti con la realtà e a maggior ragione io sono per dar loro una mano A B sono andato a chiedere gentilmente vi va di fare le riforme insieme perché poi c'è la cancellazione della memoria io sono diventato segretario del PD l'8 dicembre dello scorso anno ho fatto la prima assemblea il 15 dicembre lanciando una proposta formale a Beppe Grillo dicendo ci stai a ridurre di un miliardo la spesa pubblica della politica non vi dico come mi ha risposto gli facciamo una sorpresina la sua risposta è un hashtag irriferibile però basta andare a guardare nelle pagine twitter del 15 di dicembre quindi io ho tentato di coinvolgere il Movimento 5 Stelle e continuerò a farlo sulle riforme elettorali sulle riforme istituzionali sulle riforme costituzionali perché quella rabbia dalla quale loro sono nati è una rabbia che ha bisogno di trovare una via di uscita però se fossi un ventenne e legge le tesi del Movimento 5 Stelle che ci vuole la decrescita felice io non sono d'accordo può darsi che sbagli per carità di Dio non penso di avere la verità in tasca per me in Italia ci vuole la crescita non la decrescita sono tre anni che decresciamo altro che felice sono tre anni che stiamo perdendo posti di lavoro quest'anno a dire il vero ha un'inversione ma sono 80.000 posti di lavoro in più per arrivare al milione del suo amico sa quante ce ne vuole ancora eppure io credo che il ventenne che non ne può più oggi non debba essere messo su in nome della rabbia ma debba essere sfidato perché i ventenni italiani sono molto meglio di come li raccontate i ventenni italiani sono persone che si impegnano e si spaccano la schiena facendo volontariato i ventenni italiani sono gente che cerca di fare del proprio meglio per rimettere in modo questo paese io trovo un sacco di ventenni non la lascio il racconto dei ventenni a chi fa un po' di casino in mezzo alla strada i ventenni italiani sono una foresta che cresce e sono coloro i quali porteranno questo paese fuori dalle secche e tutto ciò che noi stiamo facendo lo stiamo facendo per questa generazione rispetto alla quale io sono anche un rottamando che è la generazione lasciatemelo dire che a questo giro non a caso ha votato PD e ha votato PD non perché crede nel segretario semplicemente ma perché crede che l'unico modo che ha l'Italia per uscire dalla situazione di difficoltà non è la riforma costituzionale la riforma elettorale la riforma della pubblica amministrazione la riforma della giustizia la riforma della passazione le facciamo tutte se anche le facessimo tutte ma non restituissimo fiducia alla nuova generazione non andremo da nessuna parte allora io le dico il ventenne di oggi si può anche arrabbiare può tirare un uovo può farsi la crep o può fare uno striscione può anche fare un troll su internet su Twitter il punto vero è che il ventenne italiano oggi è nelle condizioni di credere se c'è un progetto serio se la politica dà il buon esempio se iniziamo con l'eliminazione del Senato a restituire un minimo di credibilità se dicendo che si può creare lavoro si esce da questa filosofia che è tipica dell'articolo 18 di paura e di minaccia certo poi c'è un tema di racconto e finisco su questo sono stato in Silicon Valley a me ha fatto impazzire l'altro giorno perché è arrivato un prof eravamo alla Singularity University quindi centro della NASA è arrivato un prof e ha fatto vedere come funzionano le start up di successo prof italiano e ha messo dietro una bellissima slide e ha detto eccoci qui noi abbiamo avuto in quest'anno no in questi tre anni 18 casi di successo casi di successo non Facebook o Twitter o Google ma insomma casi di successo in realtà che hanno creato posti di lavoro sapete quanti sono i tentativi che sono andati male su 18 per 18 positivi 1700 sono andati male o meglio su 1718 sono andati bene quindi io ho fatto il conto e ho detto in Italia in parte del racconto della stampa l'attenzione non sarebbe sui 18 che ce l'hanno fatta ma sui 1682 dicendo ah ah hai fallito perché c'è una certa cultura che ormai scommette sul fallimento del nostro paese a questi rassegnati che hanno cancellato la speranza io dico che il mio compito oltre a fare le riforme è restituire fiducia e speranza e provare a guardare le tante esperienze positive che porteranno l'Italia fuori da questa paluda io le volevo fare una domanda che ho da un po' di tempo che è sul suo metodo di lavoro e il metodo di portare avanti un po' quella che è la sua missione politica per esempio spesso la si vede con presentazioni powerpoint tantissimo dinamismo tantissimo coraggio ma ogni tanto si ha l'impressione che forse manca di un po' di attenzione nei dettagli forse che questi annunci ogni tanto non si a volte per colpa sua altre volte per colpe non sue non si tramutano in fatti immediati mia domanda è non c'è un po' il rischio con questo grandissimo entusiasmo alla lunga di perdere un po' di credibilità quando magari questi annunci non vengono rispettati esattamente nei tempi previsti certo che c'è il rischio di non farcela certo sarebbe molto più comodo fare come fanno tutti gli altri come hanno fatto tutti gli altri si mettono a sedere sulla poltrona se ne stanno tranquilli e aspettano che il tempo passi darsi un obiettivo è sfidante poi c'è il fastidioso rischio di non farcela c'è la fastidiosa possibilità di battere la testa contro il muro certo c'è questo rischio io ammiro quelli che quando prendono una responsabilità non rischiano niente però siccome penso che questo paese debba rischiare il primo che deve rischiare sono io la mamma che si alza la mattina presto rischia il commerciante che tiene aperta la struttura rischia l'imprenditore che va con la valigetta all'estero rischia perché non può rischiare il presidente del consiglio anche di essere smentito poi mi piacerebbe discutere quali sono le cose che non sono andate fermo restando che nei primi sette mesi di errori ne ho fatti tanti ma mi sembra del tutto ovvio e naturale poter sbagliare e ripartire quali? no prima le voglio fare una domanda io scusi lei mi dice no no ma quali sono i suoi errori? beh l'errore innanzitutto è quello di non essere stato in grado di mostrare come la concretezza dell'azione di governo è decisamente superiore rispetto agli annunci gli 80 euro se vuole le faccio tre esempi me li renda signora non si preoccupi qualcuno a cui darli si trovano qual è il punto? gli 80 euro sono la prima operazione di abbassamento delle tasse in Italia per la gente che non prende 1500 euro al mese ok? non tutti li hanno presi no che non tutti non c'è dubbio no mi perdoni ma ci arrivo benissimo allora guardi lei come si chiama? vabbè non si sente lui il signore apre la discussione sugli 80 euro che come sapete è uno dei miei argomenti preferiti per cui mi va più che bene arrivo il 12 di marzo faccio una conferenza stampa sbaglio? non sbaglio chi lo sa? con le slide crozza mi dipinge in modo straordinario come un venditore di pentole mastrota no mastrota magari non vende solo pentole non vorrei prendere una querela su questo e che cosa accade? io dico noi ridurremo le tasse di 1000 euro l'anno che vuol dire per l'appunto 80 euro netti al mese per chi guadagna meno di 1500 euro 960 adesso ci siamo capiti panico in sala stampa parte il dibattito non la misura è giusta o no che è un dibattito serio tu prendi 10 miliardi di euro li metti in riduzione delle tasse e li metti a disposizione di chi guadagna meno di 1500 euro qualcuno poteva dire come poi è accaduto era meglio denetterli nell'IRAP oppure era meglio darli soltanto ai pensionati oppure era meglio tutte discussioni legittime no non parte questa parte la discussione eh ma non è mica vero perché perché ce l'ha detto con la slide vabbè e io sto zitto dov'è il decreto? e dico il decreto arriverà col DEF ad aprile eh i giornali buona l'idea ma tanto non arriva il decreto aprile arriva il decreto annunciamo il decreto e i giornalisti eh ma dove sono le coperture? aspettate la pubblicazione del decreto e ci saranno le coperture arrivano le coperture eh ma questo bonus vale solo fino alle elezioni come le elezioni? i primi soldi arriveranno dopo il 25 maggio come fanno a valere? aspettiamo arrivano gli 80 euro arrivano gli 80 euro e poi si scopre che gli 80 euro sono definitivi cioè non sono una tantum sono un impegno costante che mantiene eh il governo e che mantiene anche per i prossimi anni dov'è l'errore mio? forse nell'aver comunicato attraverso una slide? avrei dovuto dirla così il governo riunitosi oggi nella sede collegiale di Palazzo Chigi ha scelto di intervenire sulla leva fiscale nell'IRPEF riducendo di una percentuale che spazia tra il 7 e il 22% rispetto ai redditi minimi che colpiscono quelli che guadagnano un lordo di meno di 25 mila euro questo intervento prorogato anche nei prossimi anni costituisce uno strumento di intervento fiscale particolarmente rilevante per cercare di due punti a capo A stimolare i consumi B rendere un fatto di equità sociale dopo che per tanti anni si sono aumentate ma detta così addormento anche me stesso cioè mentre la leggo mi addormento dirla in modo un po' più chiaro e forse anche un po' più superficiale corre il rischio di farti passare come uno che fa l'annuncio ma la differenza tra l'annuncio e il non annuncio non è nel modo con il quale lo presenti ma è se la cosa la fai o no allora io mi limito qui a dirlo lo dico in modo abbastanza neutro e vorrei dire se mi permettete molto noioso che tanto è buio quindi già la palpebra può andare giù tranquilla noi in questi primi sette mesi abbiamo sommessamente pacatamente e sommessamente uno portato al primo voto la riforma costituzionale che da anni era incagliata due portato al voto il primo voto adesso è al secondo la legge elettorale per la quale un anno fa di questi tempi un parlamentare della Repubblica faceva sciopero della fame tre portato in Parlamento un pacchetto di riforme organiche della giustizia è composto da un decreto legge per l'abbattimento dei tempi della giustizia civile e da più disegni di legge per giustizia penale civile e responsabilità dei magistrati quattro approvato un decreto legge e presentato un disegno di legge delega sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione che spazia tra il dimezzamento del permesso ai sindacalisti nel pubblico impiego fino al ripensamento sul territorio di tutte le strutture centrali dello Stato cinque intervenuti in modo più o meno discutibile so che su questo si può aprire un dibattito quanto si vuole sul lavoro dando un decreto legge che consente di superare la Fornero con il decreto legge Poletti che prevede cinque rinnovi anziché uno e permettendo un aumento di lavori ancorché temporanei fino a questo momento di 65.000 unità dal mese di febbraio ad oggi e presentato un disegno di legge delega che è in discussione la settimana prossima al Senato che supera alcuni tra gli steccati ideologici principali del passato ripensando gli ammortizzatori e ragionando sulla flessibilità di assunzione vado avanti cultura c'è qui Franceschini agricoltura Martina vado avanti nel merito di tutte le cose fatte vi rendete conto quanto è noioso Matteo ma tu sei presidente del consiglio e devi dirle meglio le cose può darsi può darsi io per carità quando leggo gli editoriali i pezzi dico devo imparare però credo che la mia piccola esperienza perché ho fatto soltanto il sindaco e prima il presidente della provincia è un'esperienza nella quale all'annuncio è corrisposto un fatto mi piacerebbe essere contestato per i fatti mi piacerebbe che qualcuno dicesse guarda gli 80 euro per me sono fantozianamente una boiata pazzesca io lo accetterei ma sentirmi dire che non abbiamo fatto niente magari da quelli che per 20 anni hanno commentato in silenzio o talvolta complici chi davvero non ha fatto niente riducendo così il nostro paese mi sembra non ingiusto per me perché io me ne faccio una ragione tranquillamente ma mi sembra un'occasione persa per il dibattito in Italia allora io vi domando avete a cuore il futuro del nostro paese sì discutiamo di dove vanno messi i soldi in legge di stabilità venite a darci una mano sulla campagna di ascolto della scuola fino al 15 novembre sul sito internet del governo proviamo a ragionare insieme di come possiamo immaginare gli incentivi per riportare le società a investire o a innovare o se volete a come si fa la legge sul terzo settore tutti argomenti su cui abbiamo aperto dei cantieri di discussione ma se mi dovete dire che non sono capace perché faccio gli annunci beh insomma ci sono tanti difetti peggiori di fare l'annunciatore e il mio difetto principale forse in questo momento è che abbiamo comunicato molto peggio di come abbiamo governato io avrei adesso una domanda a lei più in veste di segretario del PD che non di presidente del consiglio restiamo qui fino abbiamo detto le due e mezzo un quarto alle tre sì ma è una cosa forse anche troppo lunga oggi c'erano due dati sui siti web uno forse molto confortante un altro un po' meno quello più confortante erano gli ultimi sondaggi sulla feducia dove lei sta un buon 50% e il PD sta un 40 virgola sempre e questo dopo un po' di mesi dopo le elezioni europee però lo stesso giorno leggiamo di un crollo degli iscritti al PD Repubblica parla di 400.000 che non avrebbero ancora rinnovato o non avrebbero direttamente rinnovato la tessera questi due dati letti insieme il secondo la preoccupa un po' o c'è una spiegazione che dice no non mi fa né caldo né freddo io so che arriverà un momento in cui il consenso inizierà a scendere e tutte le volte che vedo i risultati dei sondaggi ogni settimana mi dicono ma continuiamo ad avere un consenso altissimo tra i più alti in Europa o la gente non legge i giornali e questo fa il paio crescono i sondaggi ma diminuiscono le copie dei giornali oppure è talmente tenace la speranza degli italiani che ci credono e che non è che si fidano di me si fidano di loro si fidano del fatto che finalmente c'è un governo che anziché stare a inseguire i fantasmi prova concretamente a costruire il futuro dell'Italia e la leviamo di qui parliamo del PD il PD in questi mesi ha un gruppo di persone che dice ah mamma mia da quando c'è la segreteria Renzi il PD perde gli iscritti ora noi non abbiamo iniziato il tesseramento se non a metà di aprile perché abbiamo fatto un lavoro di ripartenza su tutta la struttura del PD vorrei semplicemente farvi notare che il PD quest'anno ha preso il 40,8% circa 16 punti in più delle ultime elezioni il PD ha fatto tre elezioni regionali la Sardegna dove c'era il centro-destra e ora c'è Pigliaro che è del PD il Piemonte dove c'era la Lega e ora c'è Chiamparino che è del PD e l'Abruzzo dove c'era Forza Italia e ora c'è D'Alfonso che è PD il PD ha vinto nel 73% dei comuni italiani certo spiacente non aver vinto nel 100% però c'è questa cosa ancora una volta che si chiama democrazia noi che siamo qui dice ha risuscitato Berlusconi 40,8% tre regioni su tre che andavano a votare 73% dei comuni non solo ma ci siamo trovati un po' di problemini nel bilancio del partito ma siccome sia gente seria i panni sporchi si lavano in casa e abbiamo rimesso a posto anche il bilancio del partito senza licenziare nessuno voi dite ma come licenziare sì perché non ve l'ho detto l'articolo 18 è un grande valore costituzionale però i partiti e i sindacati si sono fatti la leggina per cui nei partiti nei sindacati applicano l'articolo 18 perché anche questo la dice lunga su come noi ci attrezziamo in questo momento in Italia 44 anni di statuto dei lavoratori l'articolo 18 vale per tutti tranne che per i sindacati e per i partiti allora oggi la questione potrebbe abbiamo una nuova segreteria dove ci sono più donne che uomini perché l'ultima volta che avevo fatto la segreteria mi hanno detto il tuo atteggiamento di mettere metà uomini e metà donne è insopportabilmente noioso allora abbiamo messo una donna in più così smetteranno di lamentarsi del fatto che abbiamo fatto la parità di genere oggi abbiamo una nuova segreteria che può piacere o meno rappresenta tutti perché ho chiesto anche a quelli che al congresso erano stati contro di me se venivano a darmi una mano e loro sono grato hanno accettato per cui ci sono anche dentro la segreteria del PD persone che non hanno votato per me alle primarie del congresso adesso la questione è il tesseramento è partito tardi e abbiamo pochi iscritti rispetto all'anno scorso perché l'anno scorso in questo momento c'era ahimè la corsa al tesseramento perché c'erano da votare per i segretari perché poi ormai i partiti ci si tessera quando si deve votare allora io vi dico che cosa penso a me piace l'idea che la tessera sia un valore io non credo a chi dice ah la tessera non vale niente ma mi piace che sia un valore non quando c'è da votare per il segretario ma quando c'è da portare un'idea ecco perché ho chiesto a tutti i dirigenti del PD di andare casa per casa porta a porta a lavorare sulle scuole a lavorare sulla questione educativa a chiedere agli insegnanti alle famiglie alle persone che vi lavorano come deve essere il PD perché il PD se non parla di scuola non è PD ho chiesto al PD di fare finalmente iniziative che siano chiaramente visibili e riconoscibili per esempio Emanuele Fiano il nuovo responsabile che si occupa di riforme e di sicurezza ha fatto una proposta credo molto saggia che è diventato un emendamento al decreto Stadi marcata PD targata PD che dice che per esempio gli straordinari delle forze dell'ordine quando si va alle partite di calcio non è giusto che li paghi il cittadino con la fiscalità se li paghino le società con tutti i soldi che comunque le società hanno e con buona pace di Tavecchio che se detto di un contrario o di Lotito vorrà dire che Tavecchio e Lotito pagheranno per avere il servizio degli straordinari non per avere la forza pubblica che paga comunque la fiscalità generale per avere gli straordinari per le partite di calcio è una proposta del PD poi dipende a qualcuno piace il PD che ha 400.000 iscritti quando c'è il congresso e però prende il 25% perde le regioni e a qualcuno piace il PD che ha il 41% prende il Piemonte prende la Sardegna e prende l'Abruzzo e prova a vincere la partita più importante che non è quella delle tessere è quella delle idee e se mi permettete anche degli ideali vi ringraziamo è un'ora e mezzo di conversazione credo sarà molto interessante ringraziamo Matteo Renzi presidente del consiglio per aver accettato di sottoporsi alle domande dei corrispondenti stranieri ringraziamo Ferdinando Giuliano Irene Velasco e Michael Brown ringraziamo tutti voi il festival continua e vi diamo appuntamento ai prossimi eventi grazie buona serata